Non è a rete Sara Slide SM, parte arretrata schizzinosa Bit. Allo stacco Chargar DVM, scavalca Sedorf Car, l'errore di Seven, allargo Spartacus PDL. Poi Sesso Forte Griff, l'errore di Spike Griff. Si va all'imbocco della prima curva, 14, primi 200 metri. Così al comando Scansano M, nei confronti di Spartacus PDL, che è rimasto a largo. Poi Sedorf Car, la squalifica per Seven, veloci i primi 4 in 28 e 8, e davanti alle tribune Spartacus PDL va a chiedere strada a Scansano M. Sfila dopo 600 metri, completati in 43, 8, risale allargo Sara Simeoni, anticipata da Sedorf Car. Problemi anche per schizzinosa Bit, quando i cavalli imboccano la seconda curva. Il mezzo miglio iniziale in 59 e mezzo, Spartacus PDL leader su Sedorf Car che affianca Scansano M. Poi Sesso Forte Griff in quarta posizione. Completamento del chilometro iniziale, completato in 15 spaccato da parte di Spartacus PDL. Che guida 500 metri al termine su Sedorf Car. Poi Scansano M. Sesso Forte Griff, più indietro Schergar DVM che insegue. I cavalli affrontano la curva finale, ancora 14, 8, 1, 29, 9, 2, con i quali Spartacus PDL. Prova a mantenere la meglio su Sedorf Car. In terza posizione c'è Scansano M. Quando si entra in retta d'arrivo, Spartacus al comando, 3 avanti a Sedorf Car. Scansano M che è in terza posizione, a 100 scarsi dal palo, Spartacus al comando, Spartacus PDL. Sergio Belletti, facili alla meta, davanti a Sedorf Car. Al terzo posto il numero 3, Scansano M. Due minuti abbondanti, 32, la chiusa, 1,15. La media al chilometro, è il giorno di Spartacus PDL. La guida e il training di Sergio Belletti. I colori al signor Giuseppe Marselli. Al secondo posto il numero 1, Sedorf Car. Al terzo termine il 3, Scansano OM, 6, 1, 3, l'arrivo della settima.